Buongiorno mister, per parlare di mercato ci sarà tempo. Sabato ha affrontato una squadra in crisi, o meglio in emergenza, che potrebbe lanciare due giovani e lei di giovani ne ha lanciati tanti in campo. Che squadra si aspetta e come pensa di affrontare l'Inter a centrocampo? Beh, penso che una squadra come l'Inter in emergenza, penso anche a noi, che abbiamo fatto delle partite con le assenze dei giocatori infortunati, anche per cartellino. Allora siamo tutti in emergenza. Ecco, a proposito di questo, le chiedo come stanno? Sturare e Favig, che è andato a Forfè poco prima del derby? Bene, vedremo oggi come è l'ultimo allenamento, chi sarà a disposizione per la partita di domani. Buongiorno mister, allora le chiedo come sta la squadra dopo l'ultima sconfitta nel derby e cosa si aspetta dai suoi domani? Bene, la squadra sta bene, mi aspetto una reazione subito dopo una sconfitta, al mio modo di vedere non meritata, ho parlato già dopo la partita, è finita e dimenticarla con una buona prestazione domani e giocare per vincere la partita di domani. Mister, affrontate l'Inter, per lei anche un ritorno un po' al passato, perché da giocatore con la mania dell'Inter ha scritto una delle pagine più belle, quel triplete che tutti i tifosi ricordano, le chiedo le sensazioni anche di ritrovare la squadra da allenatore adesso. Ho sempre dei bei ricordi dell'Inter, una squadra che ho giocato e insieme abbiamo fatto delle cose straordinarie, però è finita, io oggi penso solo alla mia squadra e mettere la migliore squadra domani per, come ho detto prima e ripeto, fare una buona prestazione e andare, come tutte le partite che abbiamo affrontato, per vincere. Per fare una buona partita contro un allenatore che lei conosce, perché Conte lo ha avuto da allenatore, come si supera, come si affrontano le squadre di Antonio Conte? Quali possono essere, se ce ne sono punti deboli? Conte è un grandissimo allenatore, lo ha dimostrato e sta ancora dimostrando, poi le sue squadre da affrontare sono sempre difficili, perché sono squadre che lavorano insieme, che lottano, cercano di creare molto pericoli all'area avversaria, perché mettono tanti uomini a finire, a concludere le azioni. Ripeto, è un grandissimo allenatore, un grande rispetto e domani spero che sia una grande partita tra Inter e Genoa. Buongiorno mister, avete fatto due partite importanti in trasferta quando avete giocato contro cosiddette big come la Juventus e il Napoli, quelle due gare possono essere un po' un riferimento anche di quello che bisogna fare domani? Sicuramente, sicuramente sì, spero che la partita di domani possa essere come le partite che abbiamo affrontato contro l'Apoli, contro la Juventus, anche giocare in trasferta, mi sembra che la nostra squadra si trova ancora meglio di giocare in casa, e magari con una buona prestazione e solo cambiando i risultati che abbiamo avuto in trasferta sarò molto felice dopo la partita. Una settimana dove c'è stata la sconfitta nel derby, che sicuramente dal punto di vista morale non è facile da accettare, gli infortuni che avete anche voi, i risultati che probabilmente sono stati inferiori a quello che meritavate, si riesce a trasformare tutto questo in rabbia ulteriore da mettere in campo in un momento in cui si avvicina il mercato, ci sono tante voci e ovviamente non è facile. Già la partita è finita, è finita da una settimana e noi dobbiamo pensare alla partita di domani. Poi è vero che tutte le partite che abbiamo giocato siamo stati anche vicini a vincere, degli episodi, dei dettagli magari è passato dall'altra parte e non l'abbiamo fatta, però sono convinto che se continuiamo così per questa strada i risultati arriveranno e spero che possa essere già da domani. Il mister è vero, ha detto tante volte siete andati vicino alla vittoria, sia in casa sia in trasferta, poi ci sono stati degli episodi che hanno condizionato il risultato finale, però ha anche detto, ed è vero che a livello di prestazione fuori casa ci sono state forse delle prestazioni quasi superiori, anche al derby ha detto giustamente una sconfitta immeritata, però anche nel post partita non era così soddisfatto della parte offensiva. Io le chiedo, questa differenza è dovuta per caratteristiche tattiche per il vostro modo di intendere il calcio o forse di personalità di alcuni giocatori che sentono la pressione di casa? No, ma quando succedono delle cose così non è solo un dettaglio che conta, sono tanti dettagli insieme che fanno che la squadra possa giocare meglio o no. Da come lo vedo io dobbiamo pensare e dimenticare quello che è successo prima, anche perché abbiamo fatto delle belle prestazioni, sì, però non abbiamo vinte le partite e alla fine quello che conta è nel calcio, sono i risultati, sono le vittorie, e dobbiamo affrontare e avere tutta la nostra energia pensando già alla partita di domani per affrontarla nel modo giusto che è, come ho detto dal primo giorno che sono arrivato, giocare da squadra, quando c'è da difendersi difenderemo tutti insieme e da attaccare, attaccheremo tutti insieme con una sola idea di fare la partita per andare lì a fare il nostro gioco, imporre il nostro gioco e vincerlo. Le chiedo anche perché ogni squadra ha un proprio DNA storico, lei ha giocato sia nell'Inter, ovviamente con altre ambizioni, ottenendo grandissimi risultati, ma ha ottenuto in proporzione anche grandissimi risultati nel Genoa. Cosa ne hanno lasciato di diverso queste due esperienze e cosa si chiede a un giocatore del Genoa o a un giocatore dell'Inter? Cosa si chiede a un giocatore del Genoa e dell'Inter è la stessa cosa. Abbiamo poco, giocatore di calcio è giocatore di calcio. Ripeto, ho detto prima, quando c'è da difendersi è semplice, quando c'è da difendersi si difende tutti insieme e quando c'è da attaccare si attacca tutti insieme con la stessa voglia e l'ambizione che è di fare meglio dell'altra squadra per un unico obiettivo che è alla fine partita con una buona prestazione avere un buon risultato. Non vedo la differenza tra un giocatore dell'Inter e un giocatore del Genoa. Giocatore di calcio e giocatore di calcio. Chi sia da una parte, chi sia dall'altra. Tiago, vorrei chiederti una cosa su Sean, che nel derby ha giocato più da trequartista che in altri ruoli. Non dando grandissimi risultati in quel ruolo lì. Lui, secondo te, è meglio come mezzala, regista o come trequartista? Secondo me con la qualità che ha puoi giocare ovunque. Al centrocampo puoi giocare tanto davanti alla difesa, mezzala, trequartista. I giocatori di grande livello, come sempre, i giocatori di grande livello possono giocare. Secondo me importa poco il ruolo che faccia nel campo, se no della maniera che lo fa. E se trattando, ripeto, da un grande giocatore, può giocare ovunque. Mister, si sta per chiudere anche l'anno, è anche tempo un po' di bilanci. Per questa parentesi, queste settimane, nelle quali è qui al Genoa? Il suo bilancio. Si aspettava, è arrivato qua per salvare il Genoa, l'ha detto quando si è presentato, si aspettava tutte queste difficoltà, si aspettava... Farò il bilancio domani dopo la partita. Prima di Natale manca ancora una e spero che, ripeto, una buona prestazione e avere un buon risultato alla fine. Il bilancio lo farà dopo? Io le chiedo però, in queste settimane, magari ha avuto anche emergenza, come diceva l'Inter, tutte le squadre le hanno, anche quando ha avuto qualcuno squalificato, magari qualcuno infortunato, alcuni giocatori, mi viene in mente Saponarmi, mi viene in mente Gumus, non sono stati convocati. Cosa si aspettava? Cosa non le hanno dato, forse, che le ha permesso poi di coinvolgerli all'interno del gruppo? No, ma quelli che sono stati convocati, hanno giocato, quelli che erano in panchina, hanno dato quello che chiedo. sono contento di quelli che ho avuto in queste partite in panchina, anche nel campo. Questo spirito di squadra, questo spirito di giocare uno per l'altro, è il sacrificio che si deve sempre fare un giocatore di calcio. Pensando sì, pensando di fare la sua partita, ma pensando anche di fare la sua partita per il bene della squadra. e questi giocatori che li ho portati in queste partite sono molto contenti e hanno risposto bene. Ha sempre detto che la strada tracciata è quella giusta, però adesso ha detto che servono i punti, perché alla fine il calcio conta questo. Quindi le chiedo, in vista del mercato, cosa serve al Genoa per rinforzarsi? Il mercato lo parleremo nel momento giusto, non è oggi, prima della partita importante, come andremo ad affrontare domani. Dopo lì, insieme alla società, prenderemo le migliori decisioni. Mister, lo so che la rosa dell'Inter è tutta forte, ma un giocatore come Lukaku, che fa anche della stazza fisica, le sue capacità particolari, come si ferma? Ci vuole una gabbia in qualche modo? Si ferma come tutti gli altri, anche se si tratta di un grandissimo giocatore, che è Lukaku, ma si ferma sempre di squadra. Si ferma di squadra perché è un giocatore che si muove, è un giocatore che può tirare da fuori l'aria, dentro l'aria è pericolosissimo. e noi, come sempre, faremo la nostra partita e quando c'è da difendersi, difenderemo come squadra. Mister, uno dei giocatori da cui ci si aspettava forse di più, o comunque tanto, visto il suo talento, è Pinamonti, anche se è molto giovane, soprattutto sotto il profilo del numero di gol. Giocare contro una ex squadra, quella che ti ha cresciuto, può essere anche uno stimolo in più? Come l'ha visto in settimana? Sicuramente è uno stimolo in più, lo vedo bene, come tutti gli altri, e mi aspetto non solo da lui, ma da tutti. Mi aspetto di più. Quindi è uno stimolo in più anche per il mister? Un stimolo in più è andare a affrontare una grandissima squadra e avere la possibilità di fare una grande partita e alla fine finire con un buon risultato e quello è il stimolo che ho oggi. Mister, un'ultima cosa, perché di lei si diceva che fosse un allenatore già quando era un giocatore, aveva tantissima personalità anche in campo e ovviamente magari anche con gli allenatori c'erano stati magari dei rapporti intensi. Le chiedo se era vero che c'era stata un'incomprensione con Conte e poi come l'avete superata visto che ora i rapporti sono ottimi. No, ma ripeto, trattandosi di un grandissimo allenatore, poi da giocatore o da allenatore c'è sempre la comunicazione, si parla e non ho mai avuto problema con Conte. Penso che nemmeno lui abbia avuto un problema con me anche perché siamo stati sempre con la comunicazione diretta. È stata sempre buona e mi sono trovato bene sia con lui sia con gli altri allenatori che ho avuto e in questo momento da allenatore mi aspetto sempre la stessa cosa dei miei giocatori. Io sono stato sempre uno onesto e c'era qualche problema, si parlava, si discuteva e si lo soluzionava per il bene di tutti. E non cambia adesso, cambia solo che sono dall'altra parte e cerco di avere la stessa o essere nello stesso modo come sono io, uno onesto che si guarda in faccia e si parla e si soluziona, per il bene di tutti. Bene, grazie, ciao ciao. Grazie. 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 Grazie.